Eccoci qui, io sono All, stiamo giocando a Mass Effect, il primo capitolo, su Xbox One. Siamo arrivati su Prime, intanto salvo che male non fa. Abbiamo recuperato Ashley, e quindi rimpiazzato il nostro vecchio super... nave. Sembra una nave, sì. E adesso dobbiamo andare un po' avanti nella nostra perlustrazione della zona. Sappiamo che Nilus è in pericolo. Mi faccia passare, signorina Ashley. Non si riesco a... No, non ce la posso fare, c'è troppa gente attorno. Io sono incapace. No. Ok. C'è un altro mutante. Eh sì. Potete fermarlo voi intanto, il mutante? Bravissimi. Con sette giorni di ritardo. Kaiden è morto? Dove sei, Kaiden? Qua. Vieni su. Bravo. Devo ottenere doti per il Lancer. E poi direi di curarlo. Ok. C'è ancora qualcuno? Boh. Quindi, andiamo avanti, proseguiamo. Vediamo, cerchiamo di capire che è successo in Nailus, che vedo lì su, steso. Nailus. Sì, sì. È uno spettro. Era con noi sulla nord. Si è mosso qualcosa, dietro quelle casse. Aspettate! Non sparate! Sono dei vostri! Sono umano! Chi sei? Perché ti sto rispiando da lì dietro? Mi dispiace? Mi stavo solo nascondendo. Da quelle creature! Mi chiamo Pawe. Ho visto cos'è successo con il Turian. L'altro Turian gli ha sparato. L'altro? C'erano due Turian. Il tuo amico e un altro che aveva chiamato Saren. Credo che si conoscessero. Poi il tuo amico si è come calmato. ha abbassato la guardia e Saren lo ha ucciso. E ha sparato alle spalle. Io ero nascosto dietro le casse e per fortuna non si è accorto di me. Abbiamo saputo che una sonda Protean è stata trasportata allo spazio porto. Tu ne sai qualcosa? È sull'altra piattaforma, proprio dove è andato quel Saren. È salito sul treno subito dopo aver ucciso il tuo amico. Sapevo che quella sonda avrebbe fatto casino. Dopo la sua scoperta è andato tutto a puttare. Prima quella nave madre che compare dal nulla, poi l'attacco. Hanno ucciso tutti. Tutti! Se non mi fossi nascosto dietro le casse sarei morto anch'io. Come fai a essere l'unico superstite? Perché nessun altro si è nascosto insieme a te dietro le casse? Non ne hanno avuto il tempo. Quando l'attacco è iniziato io ero già lì dietro. Va bene, direi che siamo a posto. Andiamo a trovare quella sonda prima che sia troppo tardi. Prendete il treno. L'altro Turian è andato proprio da quella parte. Io? Io non posso restare qui. Vai, vai, vai a dormire. Lontano da tutto questo. Ok. Salvataggio del contenuto. Vediamo un po' se c'è qualcosa da prendere. Sì. Kit potenziamento. Ok, colpi chimici, colpi anti-uomo. Stiamo bruciando. Allora, Kaidan, Kaidan, Kaidan. Elenco. Qui io ti curo. Tieni. Ok, mettiamo la pistola che è un po' più agile. e andiamo al treno. Ok, questo è andato. Vai. Ok, ok, ok. Qui c'è qualcosa? Questo esplode? No. Bene. Tieni premuto il pulsante dorsale destro per visualizzare la ruota dei poteri. Eccolo qua. E mettere il gioco in pausa. Che vesta. Noi abbiamo sovraccarico. E sabotaggio. Eh, sì, ok, sono d'accordo. Cosa facciamo? Usiamo questo? Ah, c'è qualcuno. Ma non me ne ho mica preso. Boh, vabbè. Ok. Questo qui, per esempio, si becca sabotaggio. Però è un po' messo in una posizione strana. Mi devo far andare a... Oh. Distruttore get. Maledizione. C'è ancora qualcosa? Kaidan è morto. Se non torna in vita vuol dire che c'è ancora qualcosa. Ma... Mamma mia. Mira. Assistimi. Sono tanti. Troppo lontani. Tantissimo. Andiamo di persona. Ok. Vai lì. Eh, dobbiamo andare di cecchino. E' impossibile di gestire il cecchino se non hai le skill. Ok, preso. Vai lì. Siamo... Cosa cazzo parli? Sench'è... Oddio sono rimasti. Ok. Ok. Bravissimi Basta Sono ancora uno secondo me Forse No Ok Kaiden Kaiden è tornato Ci diamo una bella curatina Dov'è Kaiden? Venga signore, venga Qui tutto attorno a me E poi prendiamo il treno Dai Kaiden Bravo Piazzate le cariche Eliminate l'intera colonia Non lasciate tracce del nostro passaggio Abbiamo delle cariche adesso da dover disinnescare Quattro se non sbaglio Salvatina Vediamo un po' salvare Vediamo un po' squadra Cosa succede alla squadra Con più punti Cecchino Aumenta il danno e la precisione Del pistole Benissimo Corazza Elettronica Finta capitale di scudo Aumento il livello Del danno Fascino Più uno Più uno E decrittazione Più uno Poi Ashley Automatica Lava E Kaiden automatico Perfetto Non si può salvare Quindi dobbiamo andare avanti Così Allora Vediamo la prima andata Ne mancano tre Ne mancano tre E sono di là dal ponte Due di sicuro Un po' Come avere pistola Ma non c'è niente Andiamo a vedere Per scrupolo Ma Direi che siamo a posto Oh oh Andato Andate là Eccola la carica La vedo Dai Kaiden Stai lì Mi dico elenco Papapam Ok C'è gente Un sacco di gente Eh Giù Curiamo un po' Eh ragazzi Andiamo un po' Ah usa cecchino Che cazzo ci pare Coglione Ok E che non ho ancora La mira Che è un perk Ai 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 Sto andato Guarda Pensavo di aver messo la pistola Metti il nasino fuori Metti il nasino fuori Come ho detto Sei proprio lì Fuori 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 Bravo Bomba Come una posizione un po' stronza Ma Cerchiamo di farcela Dov'è 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 Perfetto Manca una bombetta Facciamo una cassa Ci prendiamo anche il tempo Di Aprire la cassa Disinneschiamo la bomba E abbiamo fatto Ok Cariche disinnescate tutte Dopo ci prendiamo un po' di tempo Per Sistemare le armi Armetter mattine Dove sono i miei signori? Ok Ci siete? Perfetto Direi andare da qui Salviamo Che male non fa Oh oh Nemico avvistato Si 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 Ci sono Si 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 Merda, tu cosa ci fai qua? Tu coglione Chi spara a cosa? Quello lì che sta ancora Soldatello E questo è andato Ok C'è qualcosa Io avvio però Non ho idea cosa devo fare Lo studierò Me lo studierò meglio Prendiamo questa cassa Ok C'è qualcosa? Ah beh la sonda Direi di lanciare la sonda E chiudere qui con l'episodio Partirà un filmatino E quindi vi do il ciao ciao In questo momento Normandy la sonda è al sicuro Richiedo l'evacuazione immediata Tecnologia Protean ancora funzionante Incredibile Non faceva così quando l'hanno portata alla luce Qualcosa deve averla attivata Ricevuto Normandy Resto in attesa Scegliere la sonda Scegliere la sonda No Non troppo È troppo Pericoloso Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'umano deve essere eliminato.